Parata di Vippa a Convivio, la cinque giorni in cui moda e beneficenza si incontrano a Fiera Milano City. Sulla red carpet della Kermess, che si occupa della raccolta fondi per l'Unlights, per la lotta all'HIV, c'era Tommaso Trussardi, che stavolta non si trovava in compagnia della moglie Michelle Hunziker, ma con un'altra bella bionda, la sorella Gaia, ora stilista di una linea della Maison. A catturare l'attenzione dei fotografi, anche Pier Casiraghi, con la moglie Beatrice Borromeo in dolce attesa. Fra i tanti ospiti, Arisa, Ambra, Asi Argento, Valeria Solarino e Simona Ventura.